Il solo è stupendo! E su questa qui dei grandiosi potremmo fare una scenetta, parlata, no parlata, soltanto da me, no scusi è che, buongiorno c'è la grandiosa? Dice no, lei chi è? Sono quell'altra, una cosa da mandare in radio, una cosa da mandare in radio! Dai clicca! Era bello! No facciamone una come hai fatto prima, che eri lì e tu eri di dietro e ci voltiamo come dire... Come dire? Tu eri qua! E che? Non è andato neanche il flash Adriano! Ecco, facciamo già questa cosa qui! Per esempio questa è già una delle cose... Ma anche di spalle si può fare tra l'altro! Ma guarda che come lo giro io non si vedrà nessuno! Ma io sono il direttore della fotografia, Minna! Ah! Questa è stupenda! Di dietro! E potrebbe essere che io... Una bella scena, una bella scena, sai qual è? Che tu mi chiami, no? Adriano! Tu sei di spalle, tu sei di spalle! Adriano! Io vengo, oi dimmi! E mi casco... Guarda loro! No, ma con sui mutandoni eh! Oe scusa no! Ma perché però, perché? E' fine, cioè Adriano... E' fine, basta! Una meraviglia! Anche questa bomba qua, capito? Se tu gli dai questo marchio in bianco e nero... Di questi due che... E la gente lo va a comprare per favore! Lo va a comprare... Si alza e dice... Cosa devo fare oggi? Non so... Oggi... Devo andare a lavorare... Ah no! Devo andare a comprare il disco! Ma so perché devo andare a comprare il disco! Hai capito? Bisogna mettere in condizione la gente! Che dica così! Vuoi un caffè? Un tè? No, più tardi! Non so me! Più tardi! Questo è per dirci che vuole andare a mangiare? Sai che non ho idea! Che ore sono? Senti qua! Quindi teniamo... Tu scappi sempre! Non neanche vi ascoltavo! No tu eri di là a mangiare! Che ascoltare? Mangiare cosa? Non so... C'ha la faccia da mangiare! Ah bene! C'ha la faccia che ha mangiato qualcosa! Io ho un po' di dubbi lì su... Che il tempo che va via, il tempo... Anche se sotto c'è una cosina che va avanti... Ho qualche dubbio lì su quello! Dove va via il tempo? Beh quello possiamo fare! Io ho fatto una cosa più... Cioè potrebbe andare avanti la chitarra e togli il basso e batteria per dire... Però il tempo secondo me deve andare avanti! Eh lo possiamo fare così! Possiamo farlo così! Perché il provino quello... Non questo, quell'altro! Per me era lui! Teniamo quello! Eh ma anche per me! Che ci frega a noi! No che ci frega ma però... Perché tu non sei! Cos'è? Sto facendo l'opera! Aiuto! Bisogna avere una trasmissione televisiva! Non ce la vogliono dare? Nel mene a te purtroppo! Un pirata! Una trasmissione pirata! E noi telefoniamo sempre e loro ci dicono di no! Eh sì è vero sì! Dicono non potete lavorare! A me piace! Ma come sei freddo! Portate una maglia con questa pezzoncina! Ce l'ho! Ce l'ho! No grazie! Dai gelato! Ma non so se non ho freddo! C'ho gelato e li si sta paralizzando la mamma! Guardi i guantini! Guardi i guantini! Guardi i guantini! Non lo freddi? Vabbè non voglio insistere! No! Sì sì! Stiamo qui! Lui prepara la cosa! Giochiamo a carte! Hai capito? Poi dopo ogni tanto veniamo a sentire! Alza questo! Abbasso l'altro! Hai capito? Fa così! Però voglio dire un paio di giorni ci vogliono! Perfetto! Secondo me! Io so che tu sei abituato che un giorno fai un on play e l'altro giorno fai un messaggio! Ma non si può fare più così! I messaggi purtroppo ci metto di più! Non si può fare più così perché se tu adesso per esempio ci mettiamo qui a fare il messaggio e viene benissimo in un'ora noi dobbiamo convincerci che è sbagliato! No ho capito! Oh ho ho ho! Sei trovato a morte! Bravo! Addio! Che cos'è possibile! È bellissimo! Eh sì eh! Infermiera! Hai capito? Guarda che l'infermiera ti riporta la neuro eh! Fammi il Moncho Cup Dai Non mi ricordo tutto Quello che avevo fatto l'altro giorno a casa E qua lì era Blu Monday? No, prima Non mi ricordo le parole Ma dai che è così carino Non mi ricordo le parole L'Inter Dico se chiedi se l'Inter ha vinto Ma perché giocava? Non giocava Ieri giocava Ieri giocava l'Inter Che ha giocato l'Inter ieri? Ma no, ha giocato la Juventus Ah la Juventus Vuoi parlare tu Adriano? Stasera giocava contro il Milan No, ma che è il Milan con te? Perché il rap comincia così per esempio Con l'idea C'è qualche cosa che non va Mi sento già poco bene C'è qualche cosa che non va Ma perché io parlo basso E dico C'è qualche cosa che non va Non so qualcosa che non va Cosa c'è che non va? Cosa c'è che non va? E dico Non so non mi piace più Non ti piace più Ma come sarebbe a dire non ti piace più Ma io ti piace e come? Così Comincio così No più o meno Hai capito? Questa sarebbe la cosa Vai Vado? Vado qua? Ah canti anche tu? No sto qui vicinissimo Dai C'è un altro pezzo di Fran Sinatra bellissimo Vabbè ce ne sono 3 mila No ma un altro che Io l'avevo anche inciso quello lì Te lo faccio sentire bello Quale? I will drink the wine Si Lo conosci? Eh? Lo scopo? I will drink the water I will drink the wine Ma ricordo l'hai fatto in television con Guidino poverino che suonava il piano Ti ricordi Adriano? Eh? Che l'hai fatto in tv con Guidino poverino che suonava il piano Faceva finta di suonare e ti dava l'attacco Chi è? Guidino? Guidino sacerdote Non te lo ricordi? Nooo Quello lì è straordinariamente quello che dici tu Sei sicuro? È sicurissimo Sì che spariva la platea Sì sì Buono Marco Sì sì Ok va bene Sei sicuro? Sicurissimo straordinariamente Non hai fatto? Si sono qui Sono qui No No Lo dico io un altro Ho cantato in inglese però Sì Vedi un po' Vedevo avessi fatto anche Con l'orchestra dietro Twin Smoking quel pezzo lì No cacchio hai ragione sai L'ho fatto anche Sai dove? Nell'aula Nell'aula C'era qui dino al piano Hai ragione Finissero i suore Ti godevo con un passo Ti dava l'attacco così Cacchio c'è la memoria Poverino Ci sei? È vero